Ben ritrovati su Canale 40, oggi il nostro ultimo appuntamento pre-elettorale per conoscere meglio i candidati sindaco per le amministrative di Carbonia, parliamo delle amministrative del 5 giugno prossimo. Ovviamente come vedete c'è qui con me in studio oggi il sindaco, l'attuale sindaco di Carbonia, Giuseppe Casti, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo subito come è avvenuto per gli altri candidati sindaco, chiedendo a lei sindaco quali sono i punti cardine che caratterizzeranno questo nuovo programma elettorale. Noi pensiamo, partiamo da 5 anni di amministrazione, 5 anni difficili, complicati, con una crisi molto forte sia a livello internazionale sia a livello nazionale che ha colpito pesantemente il nostro territorio. Però pensiamo di proporre un programma elettorale che sia in continuità con i 5 anni in cui abbiamo amministrato. Quindi con alcuni punti cardine li svilupperemo insieme ai cittadini di Carbonia, insieme alle forze politiche, alle liste civiche che ci sostengono per poter continuare ad amministrare in continuità con l'amministrazione che si sta concludendo. Ecco, andiamo subito nel merito delle questioni che riguardano la città di Carbonia. Sicuramente una delle piaghe sociali più allargate è quella della disoccupazione. Non sempre un'amministrazione comunale da sola riesce a dare risposte soddisfacenti, vista la grossa mole, ahimè, di richiesta. Come si potrebbe fare per arginare al massimo questo problema in una eventuale prossima, tra virgolette, legislatura? Ma la situazione è difficile, bisogna essere sedi nelle proposte che si fanno ai cittadini e alle cittadine. Le difficoltà sono moltissime, le risorse a disposizione dei comuni negli ultimi anni hanno avuto una diminuzione assolutamente consistente, il Comune di Carbonia ha perso 6 milioni di euro dai trasferimenti nazionali e regionali. Cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a dare un nostro contributo sulle politiche del lavoro. Abbiamo messo in campo degli strumenti che non sono assolutamente quelli che servono per risolvere problematiche lavorative, ma in questi anni per esempio abbiamo con centinaia e centinaia di posti a tempo determinato cercato di arginare una situazione. Naturalmente questa amministrazione ha vissuto gli anni dei problemi industriali di Portovesme. Abbiamo vissuto in prima persona, ci sono state le chiusure di Alcoa, Euralumina. Ecco, noi pensiamo che l'anno 2016 sia un anno di svolta, sia per Alumina, sia per Alcoa. Crediamo fortemente che il Governo nazionale e la regione autonoma della Sardegna, e stiamo partecipando attivamente a tutti i tavoli, possa risolvere definitivamente il problema industriale. Noi vogliamo l'industria, questo è un punto importante che vogliamo chiarire. L'industria può coesistere assolutamente anche con altri filoni, come il turismo e la cultura. Quindi noi pensiamo che il Polo industriale di Portovesme vada salvaguardato. Tutte le nostre forze devono anche essere destinate a ulteriori interventi sul campo turistico, per esempio, e culturale. Noi pensiamo che questo sia un punto di svolta. La riapertura della fabbrica può creare occupazione, ma può creare un indotto importante. Penso che possa avere risvolti positivi, per esempio, sulle attività commerciali, artigianali, che hanno sofferto pesantemente la crisi per la mancanza di tantissime buste paga. Ecco, noi non ci presentiamo come i salvatori della patria, e come coloro che dicono che in 15 giorni, un mese, due mesi, riescono a risolvere tutti i problemi della nostra città. Noi siamo persone che conosciamo la situazione, e noi ci impegniamo con il lavoro quotidiano, come abbiamo fatto in questi cinque anni. Abbiamo mantenuto i servizi, abbiamo salvaguardato i servizi, e appena c'è stata data la possibilità, questi non sono cantieri che sono nati a qualche settimana dalle elezioni, sono cantieri dove abbiamo lavorato per mesi, per anni, per farci trovare pronti nel momento dello sblocco totale del patto di stabilità. Io l'ho raccontato per cinque anni. Lo sblocco totale del patto di stabilità, fortemente voluto dal governo in carica, ha dato ossigeno, i primi dati sono assolutamente significativi. In Italia si sono sbloccati tantissimi cantieri, anche a Carbonia. Quindi questo serve a supporto di una nostra azione. Ci sono tantissimi cantieri, tantissime persone che stanno lavorando. Noi pensiamo che l'anno 2016, anche in quel caso, sia un anno di svolta e che i prossimi anni possono essere, da questo punto di vista, molto importanti per la nostra città. Ecco, Sindaco, lei prima ha parlato di importanti tagli che il Governo nazionale ha apportato alle amministrazioni pubbliche, agli enti locali, insomma. A fronte di questo sarà possibile, in qualche modo, o meglio, nonostante questo, sarà possibile, in qualche modo, ridurre le tasse che sono in capo oggi al Comune? Tanti cittadini sono disperati perché non riescono a far fronte al pagamento delle tasse. Noi, i primi anni della nostra amministrazione, stiamo parlando dell'anno 2011, l'anno 2012, abbiamo dovuto praticamente fare alcuni interventi di adeguamento di alcune tariffe, di alcune tasse. Da due anni a questa parte ormai abbiamo riqualificato il bilancio, abbiamo eliminato le spese superfue e stiamo intervenendo nella riduzione dell'imposta e delle tasse. Negli ultimi due anni abbiamo diminuito del 20% le quote dei reti dell'asilo nido, abbiamo diminuito del 20% la reti per la messa scolastica, abbiamo ridotto del 25% il pagamento della tasse dei rifiuti. Sono primi i significativi interventi nella direzione della riduzione delle tasse. Naturalmente vogliamo essere chiari e vogliamo essere precisi. Quando qualcuno pensa che le tasse possono essere annullate o tagliate del 50%, 60%, 70% è una proposta che naturalmente non è possibile fare, utopistica, naturalmente vogliamo intervenire. Negli ultimi due anni e tre anni abbiamo detto che non abbiamo aumentato nessuna imposta, ma le abbiamo diminuite. Con un occhio di riguardo alle famiglie, ai bambini, alle persone deboli, diminuire le reti del 20% sull'asilo nido, pensiamo che sia una cosa importante per una città come la nostra, la diminuzione delle messe scolastiche, vogliamo guardare alla scuola, vogliamo guardare soprattutto alle persone deboli, vogliamo guardare soprattutto alle nuove generazioni. C'è un investimento importante sulla scuola, non solamente dal punto di vista delle strutture, ma dal punto di vista globale dell'intervento scolastico. Noi crediamo che i giovani siano il futuro di questa città e vogliamo investire sui giovani. Ecco, noi abbiamo tutta una serie di attività che sono destinate ai bambini e le vogliamo riconfermare, dalla ludoteca a tantissime cose che sono assolutamente utili per le nuove generazioni. Allora, Sindaco, ci sarebbero tante cose da dire perché lei ha amministrato Carbonia per questi ultimi 5 anni, però sicuramente un altro problema molto sentito dagli abitanti di questa città è il problema abitativo. C'è fame di case? C'è fame di case, è il secondo problema che ci pongono tutti i cittadini. dopo il problema del lavoro, il problema della casa è il problema più importante per la nostra città. Ecco, ci vuole un intervento importante in quella direzione. L'amministrazione negli ultimi 5 anni ha messo a disposizione 40-50 nuove abitazioni. Penso che Aria non abbia fatto tutto quello che poteva fare. Adesso all'attenzione del Consiglio regionale c'è la riforma di questo ente che è un ente che in qualche modo per adesso non funziona adeguatamente. Ci sarà una nuova disposizione di legge. Speriamo di poter intervenire. Il Comune penso che abbia fatto quello che poteva fare. Abbiamo ancora 300 cittadini che chiedono fortemente di avere una casa. Noi stiamo cercando di fare tutto quello che è possibile ma sappiamo benissimo con serietà di non poter accontentare tra virgolette tutti questi cittadini che chiedono un luogo in cui vivere. abbiamo messo in campo delle misure alternative come quello del contributo sugli affitti oltre sulla casa per agevolare anche gli affitti privati da questo punto di vista. Quindi sono tutta una serie di iniziative e noi ci abbiamo creduto sul problema della casa e ci siamo impegnati e penso che alcuni risultati siano positivi. Bene Sindaco, siamo praticamente addirittura d'arrivo. Abbiamo quasi concluso la nostra intervista anche se, ripeto, ci sarebbe ancora da parlare insomma di tante cose si potrebbe discutere però voglio chiederle se avete insomma in programma qualche appuntamento pubblico per presentare al meglio nel dettaglio sia le liste che la supporteranno e sia il programma elettorale. Oltretutto, insomma, è di ieri la notizia che ha invitato tutti gli altri candidati a sindaco o partecipare a un dibattito pubblico un dibattito coordinato da un giornalista a cui insomma fa riferimento per tutte le domande che i cittadini stessi magari sono interessati a sentire le risposte. Per quanto riguarda la coalizione stiamo lavorando. Il mio è un appello anche alle altre liste civiche di centro, di sinistra. Noi vogliamo presentare una coalizione che sia di centro-sinistra con un apporto determinante determinate anche di forze civiche che ci sono. Io faccio un appello perché si uniscono a noi per presentare una coalizione che sappia dare risposte praticamente ai cittadini. Mi sembra che la nostra sia l'unica proposta politica in campo in questo momento e proprio per questo ho invitato gli altri candidati ma in maniera molto seria ad un confronto sulle diverse tematiche sui diversi problemi di Carbonia. Lasciamo perdere gli slogan lasciamo perdere le persone che fengono a Carbonia una volta ogni cinque anni a fare più cabaret che proposte politiche e confrontiamoci insieme ai cittadini per cercare di dare risposta e per cercare di spiegare quello che ognuno di noi vuole fare per questa città. Io penso che noi abbiamo idee programmi, soluzioni che siano diverse da quelli degli altri candidati e quindi sia utile assolutamente un confronto tra di noi lasciamo perdere per una volta sistemi informatici che non consentono lo scambio di idee e facciamolo alla luce del sole di fronte a tutti in modo che ognuno capisca in maniera precisa cosa ognuno di noi vuole fare. Ecco, infine per quanto riguarda invece la campagna elettorale che entra nel vivo avete scelto tra virgolette come da tradizione il porta a porta? Noi vogliamo parlare con i cittadini vogliamo confrontarci con loro vogliamo ascoltare le loro critiche che sono molto precise su alcuni argomenti tante cose non siamo riusciti a fare abbiamo voluto raccontare quello che siamo riusciti a fare ma tantissime cose che non siamo riusciti a fare il confronto con i cittadini penso che sia necessario in questo momento e sia una delle cose fondamentali abbiamo iniziato un lavoro in città lo proseguiremo nelle prossime ore nei prossimi giorni chiuderemo nelle prossime giornate anche la coalizione definitivamente e presenteremo ai cittadini un resoconto di quello che abbiamo fatto e un programma di quello che vogliamo fare ecco in maniera seria senza fare promesse che non possiamo assolutamente mantenere perché dobbiamo tenere presente in maniera molto chiara che il comune di Carboni ha un bilancio molto risicato come tutte le amministrazioni comunali italiane e naturalmente dobbiamo fare i conti con questo noi vogliamo presentare un programma che prevede alcune riduzioni ancora di tariffe di tasse un rilancio consistente degli investimenti dovuto al superamento del patto di stabilità e il mantenimento totale dei servizi servizi che dico io sono nella nostra città servizi qualificati io invito praticamente tutti i cittadini di Carboni anche a rapportare a verificare la qualità dei servizi in rapporto con città della nostra grandezza ecco io penso che Carboni abbia servizi adeguati a una cittadina di 30.000 abitanti bene ringraziamo allora anche il sindaco Giuseppe Casti candidato anche per le prossime amministrative stiamo parlando della candidatura del Partito Democratico e di diverse liste sia di partito che liste civiche bene noi proseguiamo allora con il nostro telegiornale e apriamo una grazie a tutti grazie a tutti